Claudia Cardinale nacque il 15 aprile 1938 a Tunisi. I genitori di Claudia Cardinale, Francesco Cardinale e Yolanda Greco, erano entrambi nati in Tunisia il 18 novembre 1909 e il 25 giugno 1918 rispettivamente, da famiglie che da circa tre generazioni erano emigrate dalla Sicilia. Si sono sposati il 27 aprile 1937 e l'anno successivo è nata Claudia, la primogenita della famiglia. Aveva una sorella di nome Blanche, che sarebbe diventata costumista, e due fratelli Bruno e Adriano, che in seguito avrebbe lavorato come operatore cinematografico. Fin da piccola, Claudia ha mostrato un carattere tenace, ambizioso e determinato e non ha mai mostrato una propensione ai compromessi. A causa della guerra in corso e dei bombardamenti del 1942, la famiglia Cardinale è stata costretta a trasferirsi più volte tra Tunisi e la Goulette, cambiando continuamente residenza. La madre di Claudia, originaria di Trapani, ma nata a Tripoli, insieme alla sua famiglia si trasferì alla Goulette, dove si era stabilita una comunità italiana numerosa. I nonni paterni di Claudia erano commercianti marittimi originari di Isola delle Femmine, in provincia di Palermo, che si trasferirono in Tunisia quando l'isola era ancora un protettorato francese. Nonostante entrambi i genitori fossero stati educati in scuole francesi, il padre, un ingegnere tecnico delle ferrovie Société Nationale des Chemin de Ferre Tunisiens, scelse di mantenere la cittadinanza italiana invece di optare per quella francese, che avrebbe reso la vita della famiglia più facile, specialmente durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale, quando l'alleanza tra l'Italia fascista e il regime nazista portò a un certo livello di antitalianismo. Claudia, in seguito, ha deciso di rispettare la scelta del padre, rimanendo italiana anche dopo essersi stabilita in Francia in età adulta. All'inizio degli anni 50 ha vissuto per un periodo dai parenti a Trapani. Le lingue native di Claudia Cardinale sono l'arabo tunisino, il francese e il siciliano, appresi dai suoi genitori. Fino all'età di 16 anni non aveva una buona padronanza dell'italiano, ma ha cominciato a migliorare quando ha intrapreso la sua carriera di attrice. Claudia e sua sorella Blanche, che era più giovane di un anno, sono state educate nella scuola di suore di Saint-Joseph de l'Apparition a Cartaginale, ma la sua irrequietezza le ha valso molte punizioni. Successivamente ha studiato alla scuola Paul Cambon, dove ha conseguito il diploma con l'intenzione di diventare maestra. Durante l'adolescenza, Claudia era una figura controversa, silenziosa, bizzarra e selvaggia. Come molte ragazze della sua generazione, era affascinata da Brigitte Bardot, che ha ottenuto grande fama nel 1956 con il film «E Dio creò la donna» di Roger Vadim. Il suo primo approccio al mondo del cinema avvenne attraverso la partecipazione, insieme alle compagne di scuola, a un cortometraggio del regista francese René Vautier, intitolato «L'Essa no d'Or» nel 1956. Il cortometraggio trattava il tema dell'indipendenza economica e sociale del paese e ottenne successo al Festival di Berlino, vincendo il premio dell'Orso d'Argento. Questa esperienza bastò per farla diventare una celebrità locale e attirare l'attenzione del regista Jacques Baratier, che la scelse per recitare nel film «I giorni dell'amore». Questo ruolo, seppur di secondo piano, fu la sua prima vera prova d'attrice, accettata con riluttanza iniziale, ma che segnò l'inizio della sua carriera nel cinema. La svolta decisiva nella vita di Claudia Cardinale avvenne nel 1957, durante la Settimana del Cinema Italiano a Tunisi, organizzata dall'Unitalia Film. In modo del tutto involontario e inconsapevole, vinse il concorso per la più bella italiana di Tunisia, tenutosi a Gammart, guadagnandosi così un viaggio a Venezia durante la mostra del cinema. Durante il suo soggiorno sul Lido della spiaggia veneziana, l'affascinante diciottenne catturò l'attenzione di molti registi e produttori cinematografici presenti. Accettò l'offerta di Salvatore Argento e Lidio Bozzini di frequentare il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, dove la sua maestra di edizione fu Tina Lattanzi. Tuttavia, l'esperienza si rivelò breve e insoddisfacente, mettendo in luce una scarsa predisposizione per la recitazione, accentuata dalle difficoltà con la lingua italiana, nonostante la sua straordinaria fotogenia. Dopo appena un trimestre, decise di interrompere gli studi e tornare a casa, attirando l'attenzione mediatica e guadagnandosi la copertina del popolare settimanale Epoca per la sua inaspettata scelta di rifiutare l'avventura nel mondo del cinema. Il suo debutto nel cinema italiano avvenne nel 1958 con I soliti ignoti di Mario Monicelli, dove interpretò il ruolo di Carmelina, una ragazza segregata in casa dal fratello. Questo fu il primo di molti ruoli di donna siciliana che interpretò nel corso della sua carriera, grazie al suo aspetto mediterraneo che la rendeva adatta a incarnare personaggi tanto aristocratici quanto contadini. Il film fu un successo e contribuì a renderla immediatamente riconoscibile, tanto che alcuni giornali la presentarono già come la fidanzata d'Italia. Il successo ottenuto con I soliti ignoti le procurò anche qualche piccolo lavoro in televisione e apparizioni in pubblicità sui giornali. Successivamente recitò in altri due film, Tre straniere a Roma, 1958, di Claudio Gora e La prima notte, 1959, di Alberto Cavalcanti. Venne poi scritturata per Il magistrato, 1959, diretto da Luigi Zampa, dove ebbe l'opportunità di recitare anche accanto ad attori spagnoli come José Suárez. Il film affrontava temi delicati come la corruzione, la povertà sociale, l'omertà e i ricatti. Inoltre prese parte alla commedia di produzione inglese Sue Giù per le scale, 1959, di Ralph Thomas, con protagonista Michael Craig. Il primo ruolo importante della sua carriera è stato in Un maledetto imbroglio, 1959, di Pietro Germi. Grazie alla guida del burbero e laconico regista-attore, Claudia Cardinale cominciò a comprendere appieno il significato della recitazione e a sentirsi a suo agio davanti alla macchina da presa. Questo ruolo rappresentò la sua prima vera prova come attrice e ricevette lusinghiere recensioni da parte di figure importanti come Federico Fellini, che la descrisse come una presenza indimenticabile, e Pierre Paolo Pasolini, il quale rimase colpito dalla sua interpretazione drammatica. Questi incoraggiamenti contribuirono a rafforzare la sua fiducia e ad alimentare il suo desiderio di proseguire nel mondo artistico. La vita di Claudia Cardinale era dominata dalla maternità nascosta, che la costringeva a condurre un'esistenza sempre più riservata, impedendole di godere appieno della sua vita pubblica. Il dovere e il lavoro serrato le lasciavano poco spazio per se stessa, con un film dietro l'altro durante gli anni Sessanta. Tra le sue pellicole di quel periodo ci sono lavori di grande rilievo come Il bell'Antonio di Mauro Bolognini, la mastodontica produzione internazionale Napoleone ad Austerlitz, di Abel Gans con Vittorio De Sica, audace colpo dei soliti ignoti, diretto da Nanni Loi, un sequel de' I soliti ignoti, il suo primo incontro professionale con Lucchino Visconti in Rocco e i suoi fratelli, e I delfini di Citto Maselli. Il produttore Franco Cristaldi aveva la strategia di farle interpretare piccoli ruoli, ma con i più grandi autori, ottenendo risultati di grande rilievo. Soprattutto Rocco e i suoi fratelli, pluripremiato e considerato uno dei capolavori di Visconti, ha contribuito a consolidare la sua reputazione come attrice. La successiva fase della sua carriera è segnata dall'incontro con Mauro Bolognini, con il quale intraprende un fortunato rapporto professionale e privato. Collaborano a cinque film, tra cui senilità, libera amore mio e soprattutto la viaccia. Cardinale ha sempre espresso grande ammirazione per Bolognini, considerandolo non solo un regista di grande talento, ma anche un amico sensibile e sincero. Nei film di Bolognini, la Cardinale interpreta spesso la figura della donna come perdizione per l'uomo, incarnando una femminilità seducente e ambigua. Durante le riprese di Il bell'Antonio, Marcello Mastroianni, famoso per La dolce vita, si innamorò di lei. Nonostante fosse attratta dal suo fascino gentile, lo respinse perché non lo considerava serio, pensando che fosse uno di quegli attori che si innamorano facilmente delle loro colleghe. Anche molti anni dopo, Mastroianni le rimproverò di non aver creduto alla sincerità dei suoi sentimenti. Sebbene Bolognini fosse dispiaciuto per la situazione, la tensione tra i due attori si rivelò perfetta per riflettere quella tra i personaggi del film. Durante il successivo lavoro con Bolognini, la viaccia, incontrò Jean-Paul Belmondo, con il quale recitò in seguito nell'avventuroso Cartouche 1962 di Philippe de Broca. Questo film la rese popolare in Francia e, durante le riprese, ebbe una breve storia d'amore con Belmondo. Un vero e proprio film della vita per lei fu La ragazza con la valigia di Valerio Zurlini, che rappresentò involontariamente una parte dolorosa della sua vita reale, il figlio nascosto. Questo le permise una totale identificazione con il personaggio della ragazza madre Aida, tanto che, dopo il film, le servirono un paio di mesi per liberarsi dal coinvolgimento. Il regista la scelse, contro il parere di tutti, per un personaggio così difficile, quando lei non era ancora considerata una vera attrice. Come Germi, durante la lavorazione le stava vicino. Zurlini era di quelli che amano molto le donne, aveva una sensibilità quasi femminile. Mi capiva da uno sguardo. Mi ha insegnato tutto, senza impormi niente. Mi ha voluto veramente bene. Con lui nacque una vera amicizia, basata su una profonda comprensione reciproca. Sia la viaccia di Bolognini che la ragazza con la valigia di Zurlini furono selezionati in concorso per il Festival di Cannes del 1961. Alla Croisette, l'attrice 22enne non era ancora paragonabile alle due dive italiane presenti, Sophia Loren, che vinse il premio per la migliore interpretazione femminile con La Ciociara, e Gina Lollo Brigida. Tuttavia, alcuni giornali la consideravano una possibile antagonista di Brigitte Bardot. La rivista francese Paris Match le dedicò una copertina con il titolo La chiamano già C.C. È Claudia Cardinale, la giovane rivale di BB. Nel 1962, la Cardinale realizzò un'intervista con Alberto Moravia, durante la quale lo scrittore si concentrò esclusivamente sul suo corpo, trattandola come un oggetto. Tuttavia, lei trovò appropriato che le si chiedesse solo di quello che considerava lo strumento del suo essere attrice. Io usavo il mio corpo come una maschera, come rappresentazione di me stessa. L'articolo pubblicato su Esquire con il titolo The Next Goddess of Love fu diffuso in tutto il mondo e ampliato in un libro intitolato La Dea dell'amore, pubblicato nel 1963. L'attrice si rese conto, con un certo divertimento, che il suo prorompente aspetto fisico, 160 centi di teatri distribuiti su curve esuberanti, metteva a disagio lo scrittore, che la trovava simile ai personaggi femminili dei suoi romanzi. Qualche anno dopo, la Cardinale interpreterà proprio uno di questi personaggi nel film Gli Indifferenti, tratto dall'omonimo romanzo. Il rapporto professionale con il produttore Cristaldi, dopo un paio di anni dall'inizio del contratto con Lavides, divenne progressivamente anche personale. La Cardinale era consapevole che questo legame non avrebbe avuto prospettive di ufficializzazione e, almeno per un certo periodo, si rese conto con dolore di rappresentare lo stereotipo dell'avventura tra produttore e attrice. In seguito, ha dichiarato di non essersi mai sentita veramente la compagna di Cristaldi, poiché era sempre stata in una posizione subordinata rispetto a lui, una cenerentola gratificata dalla sua generosità per l'aiuto ricevuto durante la gravidanza segreta, ma schiacciata da un rapporto personale che lui non riusciva a separare da quello lavorativo. Questo gli permetteva di tenerla costantemente sotto controllo attraverso il suo staff personale, composto dal responsabile stampa, dalla segretaria americana Carolyn Pfeiffer e dall'autista personale, facendola sentire prigioniera in una torre d'avorio e ricordandole sempre che l'aveva creata e gli apparteneva. Conducevano vite separate, eccetto durante brevi viaggi, e lei non lo chiamò mai Franco, ma solo Cristaldi. Infine, la crescente insofferenza di lei portò alla rottura. Il 1963 fu un anno cruciale per la carriera di Claudia Cardinale. Ebbe l'opportunità irripetibile di lavorare contemporaneamente con due dei più grandi maestri del cinema italiano in film simbolo della loro carriera. Partecipò a Il gattopardo di Lucchino Visconti e a 812 di Federico Fellini, sperimentando come due artisti possano essere geni in modi totalmente diversi, seguendo strade e istinti e metodi addirittura opposti. Sul set di Visconti il clima era quasi religioso, si viveva solo per il film, lasciando fuori il mondo esterno. Tanto Visconti aveva bisogno del silenzio per lavorare, quanto Fellini aveva bisogno di essere immerso nella confusione. Con il primo era impossibile cambiare una virgola, mentre con il secondo il clima era di improvvisazione totale, anche se poi non ci si accorgeva di essere trasportati esattamente dove lui voleva. Visconti, che con il ruolo di Angelica le aveva fatto il più bel regalo della mia vita d'attrice, aveva il vezzo di parlarle in un ottimo francese, imparato quando era assistente di Jean Renoir. Fellini, invece, la coinvolgeva in lunghe passeggiate e chiacchierate. Entrambi erano molto teneri con lei e la chiamavano con lo stesso diminutivo affettuoso, Claudina. Lucchino ha fatto e farà parte per sempre della mia vita. È nei miei pensieri, nei ricordi, nei sogni, ma lo ritrovo persino più concretamente, materialmente, nel viso e nello sguardo che ho oggi, nelle mie mani. Con Federico ho girato un solo film, mi ha fatto sentire il centro del mondo, la più bella, la più speciale di tutte, la più importante. Fellini fece esprimere al proprio alter ego, Mastroianni, una reverente dichiarazione d'amore all'attrice. Quanto sei bella! Mi metti in soggezione, mi fai battere il cuore come un collegiale, che rispetto vero profondo, comunichi. La trasformò in una sorta di ideale femminile salvifico, l'interprete ideale della ragazza della fonte. Bellissima, giovane e antica, bambina e già donna, autentica, misteriosa. Fu il primo a volerla non doppiata. Per lui ogni differenza era poesia, compresa quella voce caratteristica che, grazie a lui, venne finalmente rivelata sul grande schermo, aggiungendo ulteriore fascino a quello già irresistibile derivato dall'intensità dello sguardo e dalla bellezza dei tratti. Entrambi i film parteciparono con successo al Festival di Cannes. Il Gattopardo conquistò trionfalmente la Palma d'Oro, mentre 812 fu presentato fuori concorso. La cardinale presenziò sulla Croisette solo il tempo necessario per la storica fotografia sulla spiaggia in compagnia dei tre Gattopardi, Lucchino Visconti, Burt Lancaster e un vero Gheppardo. Se l'interpretazione di Angelica ne il Gattopardo e la breve apparizione nel ruolo di se stessa in 812 segnarono la sua definitiva consacrazione come stella di prima grandezza. La sua prima vera interpretazione con la propria voce. Nel film, la ragazza di Bube di Luigi Comencini, che seguì saggiamente l'esempio di Fellini, le valse il primo importante riconoscimento al suo lavoro di attrice, il nastro d'argento per la migliore attrice. Anche quello con Comencini fu un incontro importante. Luigi Comencini è un altro di quelli che mi ha capita subito, senza parole. Ci siamo parlati poco anche mentre giravamo insieme. A me non servono le parole del regista. Mi serve sentirmi capita, amata da lui. E lui mi ha sempre amata e capita. Sempre nel 1963 partecipò al suo primo film americano, seppur girato in Italia, La Pantera Rosa di Blake Edwards, che ottenne un incredibile successo al botteghino. In questo film recitò accanto ad attori affermati come Peter Sellers, Capucin, Robert Wagner e David Neven dall'eccezionale Humor, che coniò per lei il complimento La più bella invenzione italiana, dopo gli spaghetti. A distanza di 30 anni ritrovò Blake Edwards ne Il figlio della Pantera Rosa, 1993, ultimo capitolo della fortunata serie cinematografica, che tuttavia non ripetè il successo del film originale. Negli anni 60 Claudia Cardinale era all'apice della carriera e della fama internazionale, diventando una delle attrici più richieste al mondo. Tra i colleghi di lavoro più assidui c'era Thomas Millian, con il quale lavorò in numerosi film, instaurando un piacevole rapporto di amicizia e complicità. Per tre anni lavorò negli Stati Uniti, vivendoci sei mesi all'anno, riuscendo a mantenersi equilibrata senza abbandonarsi all'entusiasmo. Il mio vantaggio a Hollywood è stato che l'iniziativa non è partita da me, ma da loro. Era il periodo in cui invitavano tutte le attrici europee di un certo successo, non tanto per apertura e generosità, quanto piuttosto perché gli americani volevano avere il monopolio delle star e, se ne intravedevano altrove, cercavano di farle immediatamente proprie. Il più delle volte, in realtà, ti distruggevano. Andavi in America e tornavi che non eri più niente o nessuno. Io mi sono difesa, per esempio, rifiutando con decisione l'offerta di un contratto in esclusiva con la Universal. Firmavo di volta in volta, per singoli film, e alla fine me la sono cavata. Il circo e la sua grande avventura, 1964, di Henry Hathaway, le permise di lavorare con due star assolute, John Wayne e Rita Hayworth. Mentre instaurava un rapporto molto amichevole con The Duke, doveva assistere, suo malgrado, alla straziante decadenza della Hayworth. Lavorò per la prima volta con Ugo Tognazzi, nel film di Antonio Pietrangeli Il Magnifico Cornuto, 1964, nel quale appare al culmine della propria sensualità. Tuttavia, questa esperienza le lasciò solo ricordi poco gradevoli. Con Pietrangeli, mi dispiace dirlo, non c'è stato un gran feeling. E poi c'era Tognazzi, che all'epoca mi faceva una corte spietata. Successivamente, recitò con Rock Hudson in L'affare Blindfold, 1965, di Philip Dunn, e con Anthony Quinn in Neonore Negloria, 1966, di Mark Robson. Proprio Hudson, di cui non ignorava le segrete preferenze sessuali, si rivelò il miglior compagno del suo periodo hollywoodiano, dimostrandosi molto protettivo e comprendendo il suo disagio di europea in un mondo diverso. Frequentò anche Alfred Hitchcock, Marilyn Monroe, Barbara Streisand, Elliot Gould, Natalie Wood, Charlton Heston, Richard Burton e Liz Taylor, conobbe i Beatles e diventò amica di Steve McQueen, ma continuò a sentirsi estranea a quel mondo. Nel frattempo, in Italia, tornò a lavorare con Visconti in Vaghe Stelle dell'Orsa, 1965, vincitore di un riparatorio leone d'oro alla mostra del cinema di Venezia, ma anche in successo commerciale, film nel quale ha espresso al massimo le proprie capacità drammatiche. Tornò a lavorare con Monicelli per un episodio del film collettivo Le Fate, 1966. A dimostrazione dello status divistico raggiunto dall'attrice, nel 1966 la casa editrice Longanesi pubblicò l'insolito volume «Cara Claudia», lettere dei fans alla Cardinale. Una foto della Cardinale fu inserita, a sua insaputa, nella copertina interna dell'album «Blond on Blonde», 1966, del cantautore statunitense Bob Dylan, pare per volere dell'artista stesso. Gli avvocati dell'attrice minacciarono di intentare causa alla Columbia Records, etichetta discografica di Dylan, e nelle successive ristampe dell'album la fotografia dell'attrice venne eliminata. Le versioni originali comprendenti la foto della Cardinale sono diventate un raro oggetto per i collezionisti. Sempre nel 1966 si cimentò con il genere western in «I professionisti» di Richard Brooks, considerato il suo miglior film americano, nel quale ritrovò con piacere Burt Lancaster, con il quale aveva condiviso l'indimenticabile esperienza del film di Visconti di tre anni prima. Fu protagonista assoluta della commedia d'ambientazione brasiliana «Una rosa per tutti», 1966, di Franco Rossi, dove recitò accanto a Nino Manfredi. Affiancò Tony Curtis, Robert Webber e Sharon Tate in piano «Piano non tagitare», 1967, di Alexander McKendrick, una risposta hollywoodiana alla nuova cultura, dove impersonava il ruolo di una pittrice con un forte spirito libero. Lei e Antonella Lualdi furono le uniche due donne a presentarsi a un'udienza papale indossando minigonne. L'episodio avvenne il 6 maggio 1967, alla presenza di Papa Paolo Sezzodo, e suscitò molto scalpore, tanto da finire sui giornali dell'epoca. All'inizio del 1967 Franco Cristaldi la raggiunse negli Stati Uniti, organizzando a sua insaputa il loro matrimonio, celebrato ad Atlanta ma mai ufficializzato in Italia. Questo «sedicente matrimonio», come lo definisce Cardinale, e la successiva affiliazione di Patrick furono vissuti dall'attrice come un ulteriore modo per tenerla legata e sempre meno libera di decidere della propria vita, piuttosto che come il risultato di sentimenti autentici. Nel 1968 la Cardinale interpretò senza sosta numerose opere cinematografiche, diventando sempre più nota al pubblico internazionale. Lavorò per la seconda e ultima volta con l'amico Rock Hudson in Ruba, al prossimo tuo di Francesco Maselli, girato in Italia, in Austria e a New York, una commedia leggera per la quale ricevette recensioni discretamente positive. Sempre nel 1968 recitò con Rod Taylor nel drammatico I contrabbandieri del cielo di Joseph Sargent. Questo è anche l'anno di Il giorno della civetta di Damiano Damiani, capostipite dei film di denuncia per il quale vinse il David di Donatello come miglior attrice protagonista e, soprattutto del capolavoro del western all'italiana, c'era una volta il West di Sergio Leone, nel quale interpreta l'ex prostituta americana Jill McBain. Questo ruolo è l'unico femminile di rilievo in tutto il cinema di Leone, insieme a quello di Deborah Gelli in C'era una volta in America, ultimo capitolo della trilogia del tempo. Le scene in cui appare rimangono nell'immaginario collettivo, accompagnate dalle emblematiche musiche di Ennio Morricone. L'esperienza con Leone fu particolarmente positiva, sia sul piano umano che professionale. Ho voluto un gran bene a Sergio. Il nostro era un legame di grande affetto. Con il suo bellissimo film mi ha regalato un personaggio magnifico. Tutto il periodo è legato a un'impressione complessiva di grande benessere. Con Sergio mi sono sentita diretta sempre nel modo giusto. Ho provato la sensazione di essere sempre perfetta, grazie a Sergio. Mai avuto un problema. Dopo la magistrale interpretazione di Jill McBain, seguirono altre pellicole di rilievo, certo, certissimo, anzi, probabile, 1969, di Marcello Fondato, in coppia con Katherine Spack, e nel film storico a sfondo risorgimentale, Nell'anno del Signore, 1969, di Luigi Magni, protagonista insieme a Nino Manfredi, Enrico Maria Salerno, Alberto Sordi e Ugo Tognazzi, mentre a ricoprire i ruoli simbolo di Leonida Montanari e Angelo Targhini erano gli attori francesi Robert Hossain e Renaud Verlè. Il film fu un grandissimo successo di pubblico e di critica, risultando campione d'incassi durante quella stagione. Il decennio si chiuse con la produzione italo-sovietica La tenda rossa, 1969, di Mikhail Kalatozov, in cui recitò accanto a Sean Connery. Di lui ha detto in seguito, posso solo dire stupendo, è affascinante nella vita, esattamente come lo sono i suoi personaggi sullo schermo. E ancora, sul lavoro non l'ho mai visto lasciarsi andare a capricci o isterismi, però era serissimo. Sempre il primo ad arrivare e l'ultimo ad andar via. La partecipazione alla commedia Le avventure di Gerard, 1970, di Jersi Skolimowski, una produzione americana girata a Cinecittà, fu una delle esperienze più divertenti della sua carriera. Il regista polacco, al suo primo film straniero, si rivelò un pazzo scatenato e la cardinale si dovette impegnare personalmente per impedire che i produttori lo licenziassero. Da menzionare una delle commedie all'italiana più rappresentative. Bello, onesto, emigrato a Australia sposerebbe con Paesana Illibata, 1971, di Luigi Zampa, in cui recitava con Alberto Sordi, da cui in seguito sarà diretta nel film Il comune senso del pudore, 1976. Anche l'udienza 1972 di Marco Ferreri è stata una bella avventura, grazie allo spirito del regista. Anche nei momenti drammatici del lavoro, lui ti fa sempre ricordare che in fondo è solo un film. In Venezuela recitò insieme a Stanley Baker in Fuori il malloppo, con la regia di Jean Hermann. Dopo Cartouche per dieci anni non lavorò più in Francia, per l'assenza di proposte interessanti. Poi gliene arrivò una impossibile da rifiutare, un incontro-duello con il sex symbol planetario e bandiera francese Brigitte Bardot, il western al femminile Le Pistolere, 1971, di Christian Jacques, successo popolare dato dalle straordinarie presenze delle protagoniste, ma stroncato dalla critica, che nonostante ciò diventerà col tempo un cult movie. Sempre in Francia è stata la protagonista femminile del Il clan dei marsigliesi, 1972, il terzo con Jean-Paul Belmondo, scritto e diretto da José Giovanni, tratto da un romanzo dello stesso regista. Intanto stava già maturando il distacco da Cristaldi e dalla Vides, che avvenne nel 1975 con il mancato rinnovo del contratto. Nel 1973 tornò a lavorare per un'ultima volta con due dei suoi storici registi, Mauro Bolognini, in Libera, Amore mio, che però venne distribuito due anni più tardi per problemi di censura, e Lucchino Visconti, in gruppo di famiglia in un interno con Burt Lancaster, Helmut Berger e Silvana Mangano, profondamente segnato dalle conseguenze di un ictus. Nel 1974 viene ingaggiata per ricoprire la parte della protagonista femminile nel film I guappi, dove lavorò per la prima volta con il regista emergente Pasquale Squitieri, suo coetaneo, protagonista di qui in avanti della sua vita professionale e privata. Il loro primo incontro era stato tempestoso, caratterizzato in apparenza da reciproca diffidenza e antipatia, ma la cardinale rimase anche fortemente attratta da quell'ombroso regista napoletano, dallo sguardo azzurro e trasparente. È lei, inavvicinabile in quanto compagna di uno degli uomini più potenti dell'ambiente cinematografico italiano, a farsi avanti, malgrado tutte le voci negative sul regista, considerato un uomo imprevedibile, collerico e collezionista di donne. Ma ai suoi occhi Squitieri rappresentava la vitalità, la follia e gli eccessi di cui sentiva un bisogno crescente, dopo anni di una vita tutta regolata, tutta programmata, tutta razionale e razionalizzata. Pasquale era l'opposto, ed è stato l'opposto a Sedurmi. La loro relazione iniziò nel 1973, ma solo due anni dopo la ufficializzarono, pur senza sposarsi. Due commedie accanto all'altra principale attrice italiana della sua generazione, Monica Vitti. A mezzanotte va alla ronda del piacere, 1975, di Marcello Fondato. E qui comincia l'avventura, 1975, di Carlo Di Palma, segnano la fine del lungo rapporto professionale di Cardinale con la casa di produzione Vides, a cui è ben consapevole di dovere tutto, nel bene ma anche nel male. Sono stati loro che mi hanno costruita, lanciata. Mi hanno dato le copertine dei giornali di tutto il mondo, però mi hanno tolto la libertà e la mia vita personale. Per anni mi sono sentita stupida, incapace. C'era sempre qualcuno che parlava al mio posto, che decideva per me quello che dovevo fare, dire e pensare. Subito dopo le riprese di qui comincia l'avventura, che le costano un esaurimento nervoso a causa delle difficoltà di lavorare con la Vitti, parte per gli Stati Uniti e raggiunge Squitieri, con il quale intraprende un viaggio on the road, che segna l'inizio di una nuova fase della sua vita. Per Cardinale si tratta della riconquista di una parte dell'esistenza che le era stata a lungo negata, della riscoperta del piacere di vivere e della libertà personale. Con Pasquale ho recuperato una parte della mia vita che non ho vissuto, e cioè tutta la mia adolescenza, la mia spensieratezza, tutto quello che mi è stato impedito o mi sono impedita di vivere. Cardinale si aspetta che Cristaldi, sempre così distaccato, sia comprensivo e le permetta di rifarsi una vita, invece la sua reazione è vendicativa. Le crea attorno il vuoto nell'ambiente cinematografico per mettere fine alla sua carriera, e chiede esplicitamente a Visconti di non chiamarla per L'innocente 1976, impedendole così di partecipare a quello che si rivelerà essere l'ultimo film del regista. Per di più, la Vides la lascia con un debito nei confronti del fisco di 100 milioni di lire. Si ritrova quindi a pagare il raggiungimento della felicità privata con l'inattività professionale. Anche Squitieri da uomo di successo si ritrova disoccupato perché non trova produttori disposti a inimicarsi Cristaldi. L'ultimo contatto con Cristaldi saranno, in seguito, solo le pratiche del divorzio necessarie per consentire al produttore di sposare Zeudi Araia. Dopo 17 anni di lavoro ininterrotto, con almeno 3-4 film all'anno, l'attrice rimane ferma per quasi due anni prima che Franco Zeffirelli la chiami per il ruolo dell'adultera nel suo sceneggiato televisivo Gesù di Nazareth. Enorme successo mondiale. Le sembra di uscire da una lunga convalescenza e il fatto che le riprese si svolgano a Monastir, in Tunisia, non fa che accentuare la sensazione di un nuovo inizio. Negli anni seguenti lavora ripetutamente con Squitieri, che l'affianca Giuliano Gemma in Il prefetto di Ferro, 1977, e Corleone, 1978. Ancora una volta da dimostrazione delle sue capacità recitative in un ruolo drammatico di forte intensità, nel film L'arma, 1978, con Stefano Sattaflores. La struggente storia di una donna logorata dal dolore di un uomo estremamente violento, da una figlia ribelle e dai difficili rapporti familiari che si susseguono nella vicenda. A 40 anni può permettersi una seconda maternità desiderata, per quanto tardiva, vissuta però con grande serenità, come un riscatto della prima. Ma per tutta la durata della gravidanza è perseguitata dai fotografi, una situazione che culmina nel famigerato episodio in cui Squitieri minaccia con la pistola i fotografi che assediano la loro villa fuori Roma, secondo Cardinale, un equivoco generato da un periodo di tensione generale. Viene diretta dal regista greco George P. Kosmatos nell'avventura bellica Amici e nemici, 1979, girato interamente sull'isola di Rodi e ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, con un cast d'eccellenza, Roger Moore, Telly Savalas, Richard Rountree, Stephanie Powers e ancora una volta David Niven, che segnerà inoltre il termine degli anni 70. Gli anni 80 si aprono per Cardinale con due film importanti, La Pelle, 1981, di Liliana Cavani, che le vale un secondo nastro d'argento e Fitzcarraldo, 1982, di Werner Herzog, un'autentica avventura in Amazzonia. Su quel set è successo veramente di tutto. Ci si chiedeva ogni giorno se saremmo riusciti a girare, più che un film, una specie di lotta per sopravvivere. Una lotta contro il caldo terrificante, contro le mille difficoltà per girare in un posto fuori dal mondo. Le oggettive difficoltà ambientali sono acuite dal dover fronteggiare tanto il famigerato Klaus Kinski quanto il non meno imprevedibile Herzog. L'interpretazione del controverso personaggio storico di Claretta Petacci in Claretta, 1984, diretta per l'ennesima volta da Squitieri, le fa ottenere il premio Pasinetti alla mostra del cinema di Venezia e il suo terzo nastro d'argento. Di qui in avanti cominceranno ad arrivare solo premi alla carriera perché, malgrado la sua maturità, il cinema sembra non offrirle più ruoli all'altezza. Durante tutto il periodo degli anni 80 e 90 continuerà a girare film di circuito come ad esempio La donna delle meraviglie di Alberto Bevilacqua, L'estate prossima di Nadine Trintignant e Un uomo innamorato di Diane Curis, quest'ultimo presentato in concorso al Quarantiano Festival di Cannes. Recita nell'Enrico IV di Marco Bellocchio, 1984, di nuovo a fianco di Mastroianni, e poi in La storia di Luigi Comencini, 1986, uno dei suoi ruoli più drammatici che le richiede di apparire prematuramente invecchiata, ma ormai la sua attività si è spostata prevalentemente in Francia, dove continua a lavorare ininterrottamente anche se spesso i suoi film non arrivano in Italia. Fra gli altri, nel colossal celebrativo La rivoluzione francese, 1989, di Robert Enrico e Richard T. Heffron, interpreta il ruolo della duchessa di Polignac. Atto di dolore è probabilmente l'opera meglio riuscita durante gli anni 90 per la carriera dell'attrice, ancora una volta con l'indispensabile risorsa di squitieri per il ruolo della vedova, che tenta disperatamente di riportare suo figlio tossicodipendente sulla retta via, riceve il globo d'oro come miglior attrice e una nomination come miglior attrice protagonista ai nastri d'argento. Seguono due film particolarmente rilevanti, Myrig e Quella strada chiamata Paradiso, diretti da Henri Verneuil, entrambi narrano le vicende di una famiglia di origine armena che si rifugia in Francia per sfuggire al terribile massacro degli armeni, meglio conosciuto come Genocidio Armeno. Durante il 1993 è membro della giuria in rappresentanza dell'Italia al Festival di Cannes. Si impegna inoltre in produzioni televisive, come ad esempio Deserto di Fuoco 1997, per la regia di Enzo G. Castellari con Anthony Delon, Stefan Freis, Virna Lisi, Ariel Donbassl e Vittorio Gassman, ambientato per buona parte nel deserto del Sahara. Nel 1998 e nel 1999 collabora ancora con Squitieri, interpretando Costanza d'Aragona in Stupormundi e Donna Assunta in Lì chiamarono Briganti. Solo già Sessantenne Cardinale esordisce a teatro accettando la proposta di Squitieri, mentre in passato aveva rifiutato quelle prestigiose di Lucchino Visconti e Giorgio Streler, temendo la propria inadeguatezza. Per molti anni ho avuto il dubbio di non essere preparata a recitare dal vivo. Finché ho trovato la preziosa guida di Maurizio Scaparro, ho superato lo scrupolo dettato dal mio tipo di voce. Nel 2000 recita nella commedia La Venexiana, adattata da René De Cecchattì, diretta da Maurizio Scaparro e rappresentata al teatro Ron Poin di Parigi. Seguono nel 2002-2003 Come tu mi vuoi di Luigi Pirandello, messo in scena da Squitieri, rappresentato in una tournée teatrale in Italia, nel 2005 Du Oiseau de Jeunesse di Tennessee Williams, messo in scena da Philippe Adrien, e nel 2006-2007 Lo Zoo di Vetro, sempre di Williams, diretto da Andrea Liberovici, spettacolo in cui veste i panni di Amanda Wingfield. Nonostante il suo impegno a teatro, non perde di vista la grande passione che ha nei riguardi del cinema. Nel 2002 recita in And Now, Ladies and Gentlemen del regista francese Claude Lelouch, mentre l'anno successivo è presidente di giuria alla 64esima edizione di Miss Italia 2003, tenutasi a salso maggiore terme. Il 5 marzo del 2009 le viene conferito il premio onorario World Tolerance Award durante la cerimonia annuale del Women's World Award, tenutasi a Vienna. Nel 2011 la sua voce viene scelta per narrare il documentario naturalistico African Cats, il regno del coraggio, realizzato da Disney Nature. Manuel de Oliveira la vuole nel suo lungometraggio Gebo e l'ombra, mentre Fernando Trueba in e l'artista in e la modello. È una viscontessa nel film In costume Effie Gray, storia di uno scandalo con Dakota Fanning e Emma Thompson, mentre è la zia Rosa nella produzione italiana Rudy Valentino, divo dei divi con Alessandro Haber, dedicata al divo di Hollywood del cinema muto Rodolfo Valentino. Viene diretta dal regista esordiente Antonio Pisu nel sarcastico Nobili bugie, commedia tragicomica che racconta la storia di una famiglia di nobili ormai decaduti, che per sopravvivere al proprio declino economico aiutano un gruppo di ebrei a rifugiarsi dalla guerra. È una grintosa mamma in tutte le strade portano a Roma, commedia romantica con protagonisti Sara Jessica Parker e Raul Bova e torna in una piccola parentesi televisiva con Il bello delle donne. Alcuni anni dopo. Dopo la scomparsa di Pasquale Squitieri avvenuta nel 2017, torna con successo a teatro portando in scena La strana coppia, rappresentata nei maggiori teatri italiani con la regia di Antonio Mastellone, un riadattamento al femminile del testo del drammaturgo statunitense Neil Simon, fortemente desiderato dallo stesso Squitieri. Nella primavera del 2020 va in onda sulle reti televisive italiane e francesi la serie televisiva francofona Bulle, che la vede protagonista insieme ad un cast corale, mentre nell'ottobre dello stesso anno viene distribuito sulla piattaforma Netflix il film Rogue City per la regia di Olivier Marchal. Nel 2022 è tra i protagonisti del film tunisino L'isola del perdono di Rida Behi, storia di accettazione e integrazione ambientata negli anni 50, presentato in concorso al Cairo International Film Festival. Il 29 maggio dello stesso anno viene inaugurata a Tunisi, presso il quartiere della piccola Sicilia a La Goletta, sua zona d'origine, una strada intitolata a suo nome. Dal 3 al 21 febbraio 2023 il Museum of Modern Art di New York le rende omaggio allestendo una retrospettiva con il restauro da parte di Cinecittà di alcune sue pellicole e ritorna a recitare nel cortometraggio biografico Un cardinale donna, per la regia di Manuel Perrone. Viene inoltre presentato il libro Claudia Cardinale, l'indomabile di Indomitable che la racconta, edito da Cinecittà ed Electa e curato personalmente dalla figlia. Appena ventenne dà alla luce il suo primo figlio di nome Patrick, che nasce a Londra il 19 ottobre 1958, il quale ha lavorato come designer di gioielli per oltre 15 anni a New York. Il padre naturale del bambino le avrebbe inviato molte lettere, tutte stracciate da Cristaldi a sua insaputa, e avrebbe voluto anni dopo riconoscerlo, ma Patrick rifiutò. È stata sposata con il produttore cinematografico italiano Franco Cristaldi, dal 28 dicembre 1966, con una cerimonia da lui stesso organizzata ad Atlanta negli Stati Uniti, ma la loro convivenza era iniziata molti anni prima, sebbene tenuta segreta a causa delle leggi italiane che non permettevano il divorzio dal momento che Cristaldi era precedentemente sposato. I due si lasciarono definitivamente nel 1975. Nel 1974, durante le riprese di un film, incontra il regista napoletano Pasquale Squitieri, noto per i suoi film di critica sociale, con cui successivamente ha iniziato un lungo sodalizio artistico. Ha vissuto con lui dal 1975 al 1999. Sua figlia Claudia è nata da questo legame. Nel 1979 diventa nonna per la prima volta di Lucilla, figlia di Patrick, e diventa nonna una seconda volta nel 2013 di Milo, figlio di Claudia. Parla fluentemente cinque lingue, italiano, francese, inglese, spagnolo e arabo-tunisino. Claudia Cardinale risiede stabilmente in Francia. Negli anni Sessanta ebbe, per sua stessa ammissione, un breve flirt con Marlon Brando.